Sono stati oltre 300 gli interventi di soccorso che nel corso della stagione sciistica recentemente conclusa sono stati portati a termine dalle 5 stazioni del soccorso alpino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bolzano impegnate in questo periodo dell'anno nell'attività di controllo per garantire la sicurezza degli utenti della montagna nei più importanti comprensori dell'Alto Adige. L'attività di vigilanza ha portato alla contestazione di numerose infrazioni alla normativa provinciale che detta le regole di condotta nelle aree sciabili attrezzate, cui ha fatto seguito l'irrogazione di sanzioni amministrative e ritiro dello ski passano nei confronti degli sciatori più indisciplinati che con i loro comportamenti hanno rischiato di mettere a repentaglio la sicurezza degli altri amanti degli sport invernali. Molte le sanzioni per l'inosservanza della segnaletica, con particolare riguardo al divieto di sciare fuori pista quando vi sia un elevato rischio di valanga, ma anche quelle relative all'obbligo di assicurazione per responsabilità civile. Singolare poi è stato il caso di un sciatore che si cimentava in una discesa particolarmente difficile con in mano una bottiglia di superalcolico. All'atto del controllo l'uomo è apparso in evidente stato di ebrezza, al punto da pisolarsi mentre i finanzieri compilavano il verbale di contestazione. La presenza delle fiamme gialle sulle piste è funzionale non solo all'attività di vigilanza sul corretto comportamento degli sciatori e al soccorso degli infortunati, ma anche allo scopo di assicurare il controllo economico del territorio. In questa prospettiva i finanziari hanno vigilato per contrastare il fenomeno dei maestri di sci abusivi, individuandone otto tutti stranieri che sono stati sanzionati e denunciati alla locale procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione. Anche nel corso di questa stagione invernale le fiamme gialle si sono rese protagoniste di operazioni di soccorso particolarmente complesse, intervenendo a salvare sci alpinisti travolti da valanghe e fornendo il proprio contributo nella ricerca di persone scomparse, spesso escursionisti che non avevano fatto rientro nelle strutture che le ospitavano nell'ambito del piano provinciale attivato dal commissariato del governo. Non sono infine mancati gli impegni volti ad accrescere la cultura della sicurezza in montagna. Le fiamme gialle hanno preso parte alla campagna Sicuro Mi Diverto, sostenuta dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'Associazione degli esercenti funiviari dell'Alto Adige. L'iniziativa che si è svolta in più giornate sui principali comprensori della provincia è stata particolarmente apprezzata dai più giovani, bambini e ragazzi, attratti tra l'altro dai finanzieri a quattro zampe, i cani di ricerca in valanghe e in superficie che da sempre sono il miglior amico del militare SAGF.